Tenta di corrompere il maresciallo per non farsi ritirare la patente per l'ennesima volta. Un ascolano è finito in manette a Sant'Egidio la vibrata. L'uomo, un commerciante di 34 anni di Folliniano, ieri sera guidava la sua auto proprio a Sant'Egidio, completamente ubriaco, zizzagando per le vie cittadine, percorrendo contromano alcune strade. Bloccato e portato in caserma, atteso di restare solo con il comandante della locale stazione, il maresciallo Mario De Nicola. L'uomo, per evitare il sequestro della vettura e l'ennesimo ritiro di patente, era la quarta volta, ha tentato di corrompere il sotto ufficiale, dicendo di essere benestante che avrebbe potuto pagare se avesse chiuso un occhio. Lì per lì il militare ha lasciato correre, pensando che fossero i fumi dell'alcol a farlo vaneggiare, ma l'insistenza dell'ascolano e la sua strafottenza hanno infastidito i carabinieri. È stato a quel punto che il commerciante, visto il rifiuto del maresciallo, ha inveito contro di loro, minacciando di morte lo stesso comandante. Nei confronti del 34enne marchigiano sono scattate immediatamente le manette con l'accusa di istigazione alla corruzione, minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza. Visti i precedenti del commerciante, è stata ritirata la patente, mentre l'autovettura è stata sequestrata per la successiva confisca.